Vedevo la gente che menticava e diceva Guarda, guarda quello che devo andare a pisciare E non c'è no Chi è? Natalì! 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 Che c'è? Come che c'è? Cos'è questo casino? Stai contro te, sono i lavori Pronto? Sì Ciao mamma, ciao Piccolo Sì Che altro c'è? Contrapano Poco Come? E contrapano Io Poco Sì Di qui è abbastanza logico Ah, sì È un album Molto interessante Scopato oggi Interessante Interessante Prego No, dico interessante, interessante Ce n'è anche di più interessanti Guardi Il tuo nome è Sébastien Lebrou Sébastien, boh Ormai mi conoscono tutti questo nome e non rispondo più al nome di Sébastien Cosa stai dicendo, Sébastien? FATI Cos'è che vuoi? Una scenata di gelosia? Benissimo, facciamo sta scenata di gelosia! Oh, però svegliamoci che tra poco l'interessante Oh, stiamo tutto facendo dei lavori Magari l'operario di là Eh, infatti ho sentito il trapano Ed è per questo che mi sono permesso di salire Ci deve essere un danno idraulico abbastanza serio Sì, guardi Vado subito a chiamare Ho l'impressione che stai anche in controllo Chi è? Chi è? Chi è? Ma spiega, cosa c'entra? Ecco, Michel Ti ricordi che dovrebbe essere stato concepito all'isola dove? Ecco Sai che ci fai? È fuori discussione! Buongiorno, buongiorno Michel, caro amico Dio Tutto bene, tutto bene, tutto bene Benissimo Ottimamente Sai, stavamo giusto Mi se ne frega Di là, di là, ti sta allagando tutto Dov'è il vostro operario? È scappato Dove ne trancano? Ecco No! 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 Grazie.